domenica scorsa è stata la seconda domenica per fano senza auto in centro storico pur con qualche modulazione diversa a riguardo della viabilità sostanzialmente ieri è andato in scena lo stesso copione della domenica precedente varchi presidiati e circolazione ad anello attorno al centro anche lo scopo è rimasto invariato ovvero quello di combattere polveri sottili pm 10 da uno dei punti della città a maggior densità di traffico come segnalato dalla centralina di via montegrappa ma anche il risultato è rimasto più o meno il medesimo nonostante l'assenza di auto anche questa domenica si è sforato oltre i limiti consentiti e i sensori della centralina hanno fatto segnare 74 microgrammi per metro cubo oltre 24 il limite che è di 50 microgrammi confermando quanto da più parti detto ovvero che l'incidenza del traffico su questo dato è minore rispetto invece alle condizioni meteorologiche leggi vento o pioggia che invece incidono per due terzi del dato e questo secondo flop dell'iniziativa come era prevedibile ha fatto scattare da parte dell'opposizione la richiesta della testa dell'assessore di competenza ovvero samuele mascarin anche se l'ordinanza porta la firma del sindaco sindaco seri che però oggi visto lo smorzarsi di alcune polemiche che invece si erano accese la settimana scorsa e in una più convinta risposta dei fanesi a vivere la giornata sostanzialmente come una festa si dice tutto sommato soddisfatto dell'atteggiamento dei suoi concittadini con buona pace per i possessori di auto elettriche pur nella consapevolezza che questo problema necessita di un approccio più articolato e strutturato oggettivamente potrei dire che è stata una domenica positiva ben interpretata poi c'è sempre chi non è contento chi ovviamente queste cose non le concepisce ma ovviamente una comunità ha più visioni oggi mi sento di dire alla luce dei fatti che è stata una domenica positiva colgo anche una polemica di un titolare di una macchina elettrica direi che la persona ha ragione quando dice che una macchina elettrica non inquina ma la filosofia non era soltanto quello era anche quella di lasciare la città al di fuori delle macchine anche sul versante delle infrazioni sensibili miglioramenti questa settimana sono state zero contro le 13 della domenica passata forse complice anche la possibilità data ai residenti di poter comunque uscire dal cordone creato attorno al centro ma come tutte le medaglie c'è anche un rovescio che è quello dei commercianti che rimangono in bilico tra chi contesta fortemente l'iniziativa e chi invece si limita ad abbassare la saracinesca cosa invece diversa invece per i ristoratori che devono vedersela con la clientela che deve raggiungere il locale o come anche chi proprio nell'apertura domenicale ha una sostanziale occasione di guadagno come il forno fantini che ha abituato da oltre dieci anni al pane fresco di giornata anche la domenica i suoi clienti sia al dettaglio che anche i ristoratori e che queste chiusure hanno causato spreco di prodotto finito e mancati guadagni. Quanto pane hai buttato l'altro domenico? Ah io ho chiamato un'azienda agricola che conosco così che ha delle bestie mi ha fatto due camminate di roba buttata anche perché col fresco non è che si può riutilizzare e quindi niente la prima domenica ho fatto in questa maniera ci ho provato ci ho rimesso anche gli occhi questa qui invece non ho diciamo non ho aperto ma ho fatto festa ma a mio discapito perché comunque sia un guadagno mancato e anche una bella presentazione rispetto ai clienti che sono abituati a prendere un prodotto fresco che non hanno potuto avere.